non ci va adesso sto lì no no eh sì stanno girando non è semplice ma che scendere Rocco eh si rischia di cadere da sotto eh Rocco non è facile perché ci stanno punti un poco brutti e non mi piace a capire non c'è Rocco no preferisco i cittadini se ci ha già dovuto sti va non mi voglio fare male aspetti che non ci ha già dovuto sti va stanno ancora mano a mano stanno trovando ancora i motocicletti che bene li faccio ogni po' ando a girare con il crudo è un frischio allora che è che ci stanno si è messo frischio tutti quanti quando le fiorano di vetro c'è una sti punti loga a partire a fermo è meglio che ti trovi il movimento migliore delle pettetane e scende ma veniva fermo eh ma cioè era per stasieme facciamo un giro per fare dei nostri per stasieme tutti quanti ci facciamo una maniera sì Chi gira la grotta? Gitto un giro sarà almeno 100 km, facciamo una bella stiranza Qua la neve ci siamo divertiti la roba Qua ci facciamo a camminare Ma qua sempre su della città no? No, no, sopra un paese è stato giusto No, era tutto scorrivo, si era la neve Però è vero, era differenziato, chi lo voleva fare e chi non No, ma noi siamo, questa è la prima volta per noi No, noi ci siamo trovati a camminare Boh Ma noi sembrava strano Però mi sembrava strano E poi stanno parecchi che non riescono a fare determinare cose Eh, ma noi già eramo fornuti Cioè noi abbiamo arrivato e già eravamo fornuti Cioè già non avevamo più forza Poi ho detto, ma forza finisce Ah, fa tutto? E' un bel piano E' un bel piano E' un bel piano E' un bel piano Beh ah ma io li faccio io ciò che qui è in modo di scherzo più rapido se tu sta riendo riendo la nuova voce non si vede voglio dire il problema ci può essere tutte quante però un po' pasticcia la scelta qui ci siamo tutti perchè era di un po' gru' spettacolo non puoi vedere non sembrava proprio qua? non sembrava non sembrava oh, vabbò ora è la pijama miradotto mio dico è appena appena 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 e poi non mi dice che era il mio utilizzatore mi diceva oltre che ci va 10 o 10 è che però se è una volta eh rubete eh qua c'è no ora è scelta sotto e la città è appena assistito parola nella città Sì no wait Vai Marcello vai Macello qua beits ma questa non sto iniziando come se tu 운동i ma è la pije di cavalcata ma se ma io ho già visto anche i loro staff che tenevano i trial, vedi che dico ma io non stai arrivando o vuoi? speriamo di essere andato a fuori non lo stavo a dire ehi, dici perché... hai di modo che l'ho lasciato, sono più tornevoli smotto! eh, ma io maggiorato i fattuccio fino ad un certo punto poi la strada andava così cioè non è che mi ha giocato la coppa di pipi e c'erano le fattucce da una parte e io sono andato dall'altra noi non ci stai trovando le fattucce eh fu bello che stiamo noi andando a tutto praticamente ci avevamo portato noi o tornando a casa? stanno andando a casa però perchè l'ho da che stiamo andando a casa stiamo andando a casa ah e lui no, chi l'ho da che stiamo andando a casa chi l'hanno passata la roba? mi hanno passata la roba qui lì sono andato a casa non ci stai trovando però non ci stai trovando non ci stai trovando non ci stai trovando perché altrimenti l'indagamento quando ha preso eh infatti un pochino poi ci stiamo andando a casa quando ha preso girate la spallina qua a sinistra a sinistra che ti girate? qua se lo usate ah va bene giro giro ancora due giri da fare no no è ancora due giri hai spitto se ti girate pure a nazione gira ancora ecco si si adderazzate se ti girate più la fascetta per la parte qua vabbè fai scendere la faccetta per la parte qua vabbè fai scendere la faccetta ma che si caro di 4.1 che dovrebbe essere pam ah andiamo qua ma ci vado è la prima seduta vabbè c'è la vanda ci vado ci vado non è andato sul gara dopo sei qua come sei un po' comunque mi faccio trovare a fare queste cose che la gt faccio perché come ti dice se mi ha già andato allora ma se ci vado a venire via spontaneamente non dà non parte perché la gt non sta ancora andando ma sentite non posso non parte ora è che l'uomo dai 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 vai non m'è dilema se uscano in analisi non potremmo non potremmo e se sentiamo in Icia un po' i spatteranno perché è già detto il tracolazione di un carote Ora caduta la luna 25 di 16 è Uitta Inizia iniziamo Non è che ogaria Adesso la luna Non è che ogariano Non è il po' Sì, non è vero, non è vero. questa è attaccionata in un modo diverso e non so se le fa già la ruota non se faccio in Parigi la ruota non se faccio in Parigi è tutto in un modo ah ci tiro pure la scena da te ii ande faccio in Parigi la tele si ce aia 증cata in Parigi al giro il vetro vedi? è giusti e giusti eh si però c'è questo ah beh è la mia mamma non so te ma io ho bevuto questa è la mia mamma questa è la mia mamma la domination è una lunga questo è la lunga è la lunga è la lunga non è pesante no? Pagava Asparava Pagava Ah Rocco, però ci non vediamo il buracca Siiii Adesso io la doresco Era facile al loro No, no Stai per la truppa Attenzione per favore E' un po' Sì ahhh... ahhh... delizio che l'abbai riscotto non ci si fa nella data andrà avuto la data e con Maha II ha avuto proprio a ridica ha avuto un modifico travo con Maha II è il Dichy bravo a due... andrà passato il 1 un punto di riscogliere la data ahhh... 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 Spera giù di Spera giù di Spera giù di Spera giù di Oggi vamo vremmo Spera che altro non tigre Non è che tutto Spera giù di Spera Spera Questa scendere e vengare la parola Le faccio in volta Ah no, ci sarà Ed è un tutorial C'è la descrizione Ah no... C'è la descrizione revisione a cura Spera giù ства ili Buongiorno Tt-t altrarchd e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.